Ed eccoci, viaggiamo in perfetto orario, amici buonasera, benvenuti, continuo la programmazione di Tele Europa Network, naturalmente ci trovate sul 12 del Digitale Terrestre e questo è 30 minuti, di tutto e di più, parliamo di tutto e di più in questi 30 minuti, insomma diamo la possibilità agli ospiti e a chi ci onora della presenza di esprimere qualsiasi tipo di concetto, di segnalare situazioni difficili, di raccontarci cose belle di questa nostra regione, perché di solito parliamo sempre di cose tristi, in ranghi da quello e quell'altro, insomma noi cerchiamo di sbiare un po' il tutto, anche se diciamo viaggiamo un po' indietro. Comunque scherzi a parte, mettiamo da parte le parole perché questa sera ho il piacere di ospitare, uno che è nato diciamo nel cinema, perché il papà è nato uno dei primi cinema di Cosenza, insomma lui è cresciuto a pane cinema, quindi voglio dire è una vita anche nel cinema, adesso è Presidente della Confindustria Calabria Cinema e Spettacolo, è stato Presidente della Film Commission Calabria, attualmente c'è a tutti questi cinema, non si capisce quanti cinema c'è a Cosenza, però poi glielo chiediamo più tardi, signore signore, un rullo di tamburi ma non ce l'ho, è stato anche Presidente del Cosenza Calci, voglio dire ha avuto tante specie, con lui parleremo di tutto e di più, ecco con lui possiamo parlare di tutto e di più, anche di buche, perché Cosenza c'è un sacco di buche, insomma vabbè comunque scherzi a parte. Pino Citrigno, buonasera Pino, dicevo di queste acciacche che ci sono sentite, c'è il virus intestinale, meno male, io approfitto e saluto tutte le persone che sono a casa con la febbre, non stanno bene, una pronta guarigione da parte mia, Pino come stai innanzitutto? Stiamo belli per bene. No, dicevo Pino o Giuseppe qualcuno? No, Pino, Pino, Pino. E noi di Pino ci ricordiamo di un solo Pino, oltre a quelli che sono in zile, ma il Pino nostro, diciamo Cosentino che detto Giuseppe, detto Pino, che Pino Gentile, una storia, di una vita nella politica cosentina, regionale, lo salutiamo, approfittiamo, salutiamo anche Pino Gentile se ci segue, insomma un abbraccio anche a lui. Come stai allora, tutto bene? Tutto bene. A proposito, entro subito a gamba tesa, so che avete avuto un incontro in Regione Calabria ultimamente a sostegno del cinema e dello spettacolo, ma che è successo, com'è andato? Beh, come tu sai, ne abbiamo parlato anche qualche altra volta, il cinema e lo spettacolo dal vivo, ha attraversato due anni di pandemia, due anni difficili, due anni duri, chiusure prolungate, negli ultimi due anni abbiamo patito oltre un anno e mezzo di chiusura forzata, è vero che il Governo ci è stato vicino con dei sostegni, anche la Regione Calabria aveva dato qualche mese fa un sostegno agli operatori, sia dal cinema che dal teatro, delle discoteche, però sai bene che è stata dura, dura per tutti. E dura anche oggi che abbiamo riaperto già da parecchi mesi, perché comunque la paura per il pubblico, soprattutto quello anziano, di ritornare nei locali chiusi, nelle strutture al chiuso, anche la scarsità di qualità del prodotto cinematografico, poi il caro energia che ci si è abbattuto addosso. Quindi diciamo che il cinema e i teatri non stanno attraversando un momento felice, stiamo combattendo, siamo sulle barricate, perché non ci arrendiamo, non vogliamo lasciare questi, il nostro territorio, parlo a livello regionale, privi di un punto di agazione, anche nei piccoli paesi. Sì, ma soprattutto nei piccoli paesi è un punto di aggregazione, di società, riportare i ragazzi che sono stati per due anni chiusi nelle loro stanze, nella loro casa, riportare di nuovo a incontrarsi tra di loro, a discutere di un film, di un'emozione, però certamente il momento è difficile. Quindi un mesetto fa abbiamo chiesto udienza al Presidente Occhiuto per cercare di trovare una soluzione, di venireci in incontro. Sì, l'avete trovato. Rompersa è stato molto disponibile, però ci ha, diciamo, ha delegato in questo il Vice Presidente, l'assessore, la dottoressa Princi, che è alla delega anche alla cultura e allo spettacolo, che ci ha ricevuto, è stata molto gentile. Poi lei viene dal mondo della scuola, quindi conosce bene i rapporti che si erano instaurati tra le scuole e i cinema, con i famosi mattina della scuola. E diciamo che abbiamo raggiunto, abbiamo fatto un percorso, più che raggiunto un accordo, abbiamo fatto un percorso nel senso che noi non abbiamo chiesto una sovvenzione a perdere, noi abbiamo chiesto un aiuto, un progetto che possa riportare i giovani e gli anziani al cinema. Quindi noi abbiamo chiesto all'assessore Princi di trovare una soluzione, cioè di trovare un progetto con la quale la Regione acquisti dei biglietti che siano destinati agli under 30 e agli over 65, poi con delle modalità che stiamo mettendo in pratica. Questa è una bella idea, insomma. No, è una bella idea perché non è quell'aiuto vuoto a se stesso, che ti dà un contributo fine a se stesso. No, è mirato. È un qualcosa è mirato a far sì che, come dicevi tu, soprattutto i piccoli cini. Ma qua quanti ragazzi, quanti bambini e anche ragazzi ci succedono in meno ambienti che non hanno la possibilità di andare al cinema, no? No, poi soprattutto in questo momento. In questo momento, no, in questo momento che poi il suo spettacolo, la cultura, perché poi tu abbracci anche lo spettacolo, tu sai di questa polizia che è nata per l'allestimento lì alla stazione centrale di Milano, ci voglio dire, stiamo parlando di 2 milioni e 600 mila euro, tanti soldi e molti sono arrabbiati perché dice, come questa Calabria noi qui addirittura a Cosenza poi abbiamo avuto le luminarie, c'è una luce, ci voglio dire, e uno dice, ma perché dobbiamo far divertire noi i lombardi e non i nostri calabresi a investire in Calabria? Allora qui noi... Poi ti voglio parlare anche del teatro perché poi sicuramente... No, ma noi con la dottoressa Pringio abbiamo parlato anche di teatro perché devi sapere, una cosa che forse in Calabria sanno pochi, che al di là dei teatri comunali di Cosenza e Catanzareggio, in molti piccoli centri, io ti faccio l'esempio di Corigliano, Trebbisacce, Crotone, Vibbo, il cinema e anche la struttura teatrale del luogo, quindi ho detto al... Sì, fanno un e l'altro, sì, certo, certo. Guardate che se chiudono i cinema perdete anche le strutture, quelle strutture che fanno anche teatro, quindi è un'operazione che veramente salvaguarda non solo la struttura diciamo imprenditoriale e commerciale che può avere un cinema, ma anche proprio quella culturale perché i cinema fanno anche teatro. E' quello che dico, perché poi magari è anche bella avere una sinergia pubblico e privata, no? Come avete fatto anche a Cosenza, so che tu hai fatto l'altro teatro, se non mi sbaglio, che è Cosenza è un periodo, no? Vedi, questo per esempio è stata un'operazione, sì, vedi questa è una delle operazioni dove vedi che la cultura addirittura supera anche la barriera politica, perché io l'ho detto anche in conferenza stampa, quindi non dico una cosa solo a oro per piageria nei commenti dell'uno o dell'altro politico di turno, ma l'ho detto anche in conferenza stampa, l'operazione che noi abbiamo portato avanti con l'altro teatro, questa sinergia pubblico-privato, che poi è sostenuta totalmente dal privato, però il pubblico mette forse la parte più importante che poi è il teatro, è nata sotto l'amministrazione di Mario Chiuto, ma è stata abbracciata in maniera molto favorevole dall'altra amministrazione, ma poi vedi quando uno lavora bene, quelle idee ci sono, io parlo sempre, più volte ti ho nominato a livello di meritocrazia, perché ho detto questo discorso della meritocrazia in Calabria non esiste, io vi ho portato ad esempio, è stato ospite anche qui da me Carlo Tanzi, qualcuno sarà, dice ma Fabio tu ancora nomini e dici parli di Mario Oliverio, Mario Oliverio ce l'ha visto bene perché avevo nominato a te come Film Commission, se non mi sbaglio, Presidente della Film Commission e a Carlo Tanzi avevo affidato la protezione civile, poi sappiamo bene è andata a finire in quel modo con Carlo e altro, la tua non so poi è finita, la tua è finita pure, io mi aspettavo sicuramente che tu fossi stato riconfermato alla Film Commission perché hai fatto bene, hai portato tante produzioni in Calabria, ma è lì del settore, niente da dire per carità ad Anto Giulio Grande che non conosco, che è uno stilista, che fa moda, però non so cosa ci azzecca con il film, ma questa è una cosa mia, farà anche bene lui, però ripeto, io sono del parere che se dobbiamo scegliere un ingegnere, allora ha scelto Ferrara, un ingegnere Ferrara, un giovane alle ferrovie della Calabria, questo mastica il settore suo e poi se fa bene, va bene, si è la mia realtà. No, però, Fabio, perdonami, guarda, su questo vorrei spezzare un alagio, io quando sono critico sono anche molto molto agido, però poi sono una persona onesta e devo anche dare merito a chi poi ha il merito di fare cose giuste. Il problema della mia, diciamo, non riconferma, non è stato il discorso della non riconferma. E cos'è stato? Il discorso era questo, noi avevamo tracciato una strada che aveva portato la film commission da una situazione di totale immobilismo, che era per anni, con un milione e mezzo, un milione e 500 mila euro di debiti, le produzioni che non volevano proprio sentire nella Calabria, ad arrivare a... Che poi l'avete fatto con la Basilicata, se non mi sbaglio insieme. Il primo anno abbiamo fatto con la Basilicata, sì, abbiamo portato a casa anche due Davidi Donatello con il film Aciambra. Noi siamo arrivati a portare sul territorio quasi 40 produzioni cinematografiche, tre produzioni RAI, un numero infinito di cortometraggi e documentari, abbiamo investito come regione circa 3 milioni e mezzo di euro, sul territorio sono arrivati oltre 15 milioni. Quindi avevamo tracciato un percorso, eravamo presenti in tutti i festival, a Venezia, a Cannes, a Berlino, a Roma. Il discorso è stato... Io ho criticato questo, non la nomina di Minoli, per fare il nome che mi ha sostituito, è che lui ha colmatamente spezzato questo percorso. Cioè, è stato un anno e mezzo di totalità di... Ma chi è venuto a Minoli? Ma questo non mi interessa. Oggi invece devo dare atto ad Antonio Giulio Grande, che ha ripreso quel percorso. Cioè loro oggi hanno fatto un investimento importante, 5 milioni di euro sul nuovo bando produzione. So che da qualche giorno è uscita la graduatoria e ci sono oltre 10 produzioni cinematografiche che verranno a girare in Galabria. Mi pare ci sarà anche una produzione televisiva importante. Quindi io non ho criticato la nomina, è anche giusto che io dopo 4 anni dovevo essere sostituito, cambiato. Io criticavo il discorso di perché non perseguire una strada che è stata tracciata, che ha portato in Galabria la produzione, che ha portato risultati, ha portato riconoscimento. Oggi invece devo dire che nonostante come ha detto Antonio Giulio Grande che viene da un altro settore, però messosi a fianco uno staff importante come il dottore Vigna, come Giambolo Calabrese, come i miei due ex collaboratori amministrativi, Luca Ardente e Pino Cagliardi, hanno ripreso quel percorso. Oggi la Calabria tra qualche mese ritornerà di nuovo sulle prime pagine di tutti i giornali del settore del cinema e dell'audiovisivo. Allora questo è, riportano, ridanno lavoro a quelle maestranze che da due anni e mezzo sono completamente ferme. L'importante è che poi, io mi ripeto, molte volte, io dico, e lo dico anche contro me stesso, non è tanto la persona che sia capace o non capace, non è tutta uno staff, però è anche il percorso che uno deve seguire. Non sono d'accordo, non sono d'accordo perché bisogna conquistarsi sul campo e la meritocrazia, io penso che lui di questo, non lo so, magari ci avranno affiancato anche delle persone competenti, però lui non penso che con il cinema non c'entra proprio niente lui, voglio dire. Poi lascia perdere che adesso hanno chiamato, va bene, farà bene, farà male, poi i risultati sono alla fine e ti premiano. Questo è come il calcio, no? Se fai una squadra, ne parliamo di questo. Va bene, i risultati si arrivano, la gente allo stadio viene e ti applaude. Se i risultati vanno male, poi alla fine è quella, te ne vai e basta. Però non è così, perché in Calabria mi auguro, come hai detto tu, che da qui a poco, nei prossimi anni, c'è un presidente giovane, c'è una persona che vede oltre, speriamo che insomma coinvolga persone eccellenze calabrese, ne abbiamo in tutti i settori, abbiamo università che ogni giorno fuggina di ragazzi che escono e veramente vanno fuori, poi se ne vanno, perché non devono stare in Calabria? Perché queste eccellenze calabrese? Ma Roberto l'aveva fatta anche una fuga dei cervelli, la legge, se la ricorda, pensa anche lui. Roberto Chiudo, quando era consigliere regionale, aveva lanciato questa legge della fuga dei cervelli, te la ricordi? Quindi mi auguro che Roberto continua su questo, perché noi in Calabria abbiamo veramente tante eccellenze di giovani e vanno aiutati, vanno dato atto a loro, è merito, come meritocrazia. A proposito del calcio, perché poi dopo 30 minuti volano, dopo un'esperienza anche con il calcio, il Cosenzi in questo momento sai benissimo, sta andando male, criticano perché anche la scorsa settimana con la lupa al lupo io ho avuto un po' di critiche in merito a questa squadra, non so che succederà, che vogliamo dire? Dici imprenditori non ce ne sono, è sempre le solite cose, guarascio, vattene, a bandiere vattene, vogliamo dignità, insomma questa tifoseria ce l'ha un po' con lui. Ma lui dice, come dicevi anche tu, l'hai detto più volte da lupa al lupo, uno deve vendere perché deve trovare qualcuno che compra, ma se lui non vende, dicevi tu, non so se ti resta avvenuto. Penso che ormai è evidentissimo che il presidente guarascio non ha nessuna intenzione di vendere il Cosenza calcio. Io, se mi permetti, rubo i cinque minuti al cinema e allo spettacolo, lavoriamo di tutto e di più, dicendo, rilanciando una proposta che probabilmente è l'unica fattibile se vogliamo ridare un po' di speranza a questa tifoseria che merita. O metti di cinesi, io ho invocato qualche cinese. No, 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 ma non c'è bisogno di andare a Londra. E tu che vuoi proporre? Guarda, la ricetta, secondo me, al momento più perseguibile per mettere al Cosenza, ma io parlo già del campionato prossimo, per fare un campionato, speriamo, di vertice e che possa dare delle soddisfazioni, che ci possa far lottare per qualcosa di importante, è quello di affiancare guarascio nella gestione del Cosenza calcio. E io lancio qui una proposta che spero che soprattutto la tifoseria possa poi sostenere. Cioè nel senso che ci sono gli imprenditori a Cosenza e in Calabria che possono dare una mano sostanziale a questa presidenza e a questa società. È normale che oggi pensare che in questo momento di grave crisi e di grave incertezze ci siano degli imprenditori calabresi o cosentini che acquistino la società e quindi vadano a mettere sul piatto 7, 8, 9, 10 milioni di euro, scordiamocelo. E non ci pensiamo proprio. Quindi pensi che non ci sono? No, 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 non ci pensiamo proprio. Perché potrebbe esserci qualcuno che però, mettiamo sempre al fianco, che debba avere qualche interesse particolare, quindi un appalto o qualcosa di importante sul territorio. Ma al momento non ne vedo. Il discorso qual è? È quello di fare invece una specie di sinergia tra più persone. però aspetta, perché in questo momento molti tifosi potrebbero dire eh sì, vabbè, però ci tengo la salute accordata, poi... No, oggi invece faccio una prova, lancio questa... No, ce la lanciamo. Se si crea un gruppo di imprenditori, ma nel numero di 3 o 4, non vediamo numeri alti, che possa affiancare al 50% il presidente Guarascio, al quale, come dicevo qualche tempo fa in un gruppo a lupo, gestirebbe soltanto la parte economica, perché la sa gestire, ed è veramente il numero uno. Mentre, diciamo, gli altri farebbero un investimento gestendo la parte soltanto tecnico-sportiva. Però con un gruppo, un minimo di gruppo composto dai tifosi, che possono essere, può essere anche eletto dagli stessi tifosi, quindi non amici nostri. Avvicinare, avvicinare, avvicinare. Esatto, fare una specie di... Di coinvolgere. Di controllo, che non deve controllare la gestione durante il campionato, perché non... Deve portare idee, portare proposte. No, deve avere in mano il bilancio preventivo, cioè nel senso di sapere, prima, quali sono gli investimenti che fanno i soci, quali sono le entrate sicure che ha la società, e quali sono le uscite che si faranno. In modo tale che la società non vada in perdita, e quindi poi si rischia di solo di fallimenti, ma che faccia una gestione. Naturalmente, il budget da investire non deve essere un budget minimo, deve essere un budget adeguato a quelle società di calcio, di serie B, che aspirano a essere promosse. Sì. E la seconda cosa, è andare ad individuare subito, se la cosa, diciamo, se si riuscisse a convincere il Barascio a mettersi a un tavolo subito dopo queste feste per programmare l'anno prossimo, di trovare subito un direttore sportivo e un allenatore di categoria superiore, cioè che siano in grado, come facevamo noi all'epoca con Mirabelli, di poter costruire una squadra che in un anno, in due anni, in tre anni, possa cominciare a tendere la scalata alla massima serie e toglierci veramente questo sogno, quest'ultima speranza che ci è rimasta, insomma, di vedere il cosento in serie A. Io so che è una cosa molto ipotetica, però se ci si mette al tavolo con la convinzione, da parte dei tifosi, da parte di Guaraci e da parte di un gruppo di imprenditori che, secondo me, a questo punto si può anche individuare, perché è un investimento minimo, un investimento, diciamo, bisogna fare, che ha però un obiettivo importante, perché se il Cosenza va in serie A, c'è da guadagnare per tutti, anche per quei imprenditori che fanno questo investimento in due o tre anni in serie A. L'abbiamo lanciato qui, magari se, chissà, il prossimo anno Guaraci vuole aprire. Fabio, in questo momento non ci sono altre state, perché onestamente imprenditori in questo momento a Cosenza o in Calabria che possono fare un investimento di 7-8 milioni di euro, non ce ne sono. L'unica cosa è quella, creare sinergia. Un plauso va fatto, l'ho detto la stasera, anche al gruppo noto, al Floriano Noto, al suo gruppo, che in questi anni è riuscito veramente a portare il Catanzaro, mi auguro che quest'anno possa fare il salto di categorie, insomma, me lo auguro per il Catanzaro, perché ha programmato, come hai detto tu, ha programmato, si è impegnato, negli anni ha speso, finora penso, 30 milioni di euro. in questi anni. No, ma guarda, noi dobbiamo dare anche atto a Guarascio, che comunque dalla D, c'è, con maniera campulese, come volete, ma noi c'è la potenziaria B. Oggi, quello che io chiedo a Guarascio, e anche all'imprenditoria locale, è di, intanto, non perdere la B, però dopo cento anni di storia, tentare tutti insieme, quindi imprenditori, Guarascio, la città, l'amministrazione, i tifosi, di realizzare questo sogno di vedere almeno per un anno la Serie A, però secondo me, se non diamo questa sinergia, questo discorso di gruppo, questo controllo anche da parte della tifoseria, con un suo comitato di controllo, secondo me, noi, in Serie A non ci andremo tanto facilmente. L'abbiamo lanciata questa proposta, speriamo che poi il prossimo anno Guarascio prenderà in considerazione. No, va fatto nei prossimi mesi per preparare la nostra giro. Certo, da gennaio in poi, anche perché poi gennaio apri il mercato, bisogna vedere come si muove, la situazione, certo, questa squadra non può restare così, però, detto questo, per quanto riguarda il Cosenza, l'esperienza tua, l'hai avuto, ci hai rimesso tanti soldini all'epoca, però, insomma, lo sfizio, tua moglie, cosa che la città merita. Infatti, la moglie, Anna, che saluto, Anna, quando praticamente mi vede a me al cinema, dice no, non è che viene per qualche proposta per il Cosenza, te ne deve andare, quindi voglio dire, già come vi dici, magari mi svia Pino in qualche investimento, perché il calcio, come diceva lui, non è facile, però, ripeto, se lo fai bene e hai una provincia, veramente una provincia, guardate che l'ultimo, lo scorso anno, le ultime partite abbiamo portato 20.000 persone, 23.000 persone allo Stato, a una partita di play out, stiamo parlando di play out, quindi pensa un po' che voglia, che c'è, c'è una provincia grandissima, ma perciò dico che... che ci sono tifosi, mille tifosi che vanno in trasferta a Udine, vanno a Venezia, ci voglio dire, lei ha detto, c'è un business che si muove intorno al calcio importante, e lo confermavano anche ieri, l'altra sera, da lupo a lupo, la settimana scorsa, mi ricordo, il professor Francesca Aiello che diceva appunto questo, il business si può fare, però Pino, mettiamo una partita di play out, ritorniamo al cinema, ritorniamo naturalmente allo spettacolo, ma perché non devono lavorare gli artisti nostri calabresi? Noi abbiamo tanti artisti, gruppi musicali, artisti, cantanti, lirati, noi preferiamo questi dal nord, vengono, si pieno questi soldi e scappano, prendono il bottino e scappano, perché? Ma guarda, allora, intanto la Calabria è una regione che da molti anni, da troppo tempo è rimasta fuori da certi circuiti e da certe situazioni del mondo dello spettacolo al vivo e lo dobbiamo recuperare, in questo sì, dobbiamo metterci del nostro come operatori del settore, però bisogna fare anche qua una sinergia con la regione Calabria che deve credere e investire sui suoi cittadini. E abbiamo tanti, dai, facciamo lavoro a sta gente di qua, però non è facile. Ce l'hai anche tu nel settore del cinema, hai visto quante persone in gambe, comunque, come mancano due o tre minuti, io voglio anche capire adesso tu, del cinema abbiamo il cinema Citrigno, abbiamo il San Nicola, se non mi sbaglio, l'Italia ce l'avete anche? L'Italia stiamo aspettando che il comune riottenga la legibilità da parte dei Vici del Fuoco che era scaduta, poi, diciamo, c'era stata la pandemia quindi era rimasto tutto, però penso che sarà un tempo, subito dopo le feste che vorrò riaprire. In questo mese che suggerimento diamo? Che film ci sono in programmazione? Colgo l'occasione per intanto invitare sia i Cosentini, tutti i nostri pubblico della provincia, ma visto che tu vieni visto anche in regione, anche tutti i nostri calabresi ad andare al cinema in questo periodo natalizio, a sostenere il nostro settore. anche perché quanti dipendenti hai tu Pino? Quante famiglie? Ma guarda, io ti do un dato regionale che forse dà più l'idea, perché noi in Calabria abbiamo circa 40 cinema e intorno a questi cinema ci sono almeno 150 famiglie di dipendenti che vivono tu qua, ma poi c'è tutto un indotto che gira intorno all'attività cinematografica, il pub, la balanzeria, il bar, quindi penso che veramente al di là della cultura che facciamo, del luogo di aggregazione, io dico che difendere queste strutture cinematografiche e teatrali vuol dire anche difendere una piccola fetta di imprenditorialità e di posti di lavoro. Poi comunque Pino, tienimi informato come andrà a finire se vi rivedete di nuovo con il presidente della regione Calabria per questo incontro, allora stai dicendo il cinema avete avatar sicuro? No, no, dicevo questo, invitavo tutti i calabresi ad andare al cinema, c'è una bella offerta, abbiamo già in programmazione, ma io, ma come tutti i cinemani della Calabria, un gran bel cartone animato che è Gatto con gli stivali 2, è uscito Avatar, la seconda parte di Avatar in un 3D splendido, io ho visto alcuni minuti assorrendo in anteprima ed è veramente di una bellezza stratosferica e poi a Natale avremo il ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo, quindi una bella commedia per passare due ore di divertimento, avremo un film che ha avuto già un, dalla critica è stato, è già in odore di Oscar che è l'ultimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, che praticamente racconta la sua vita, perché si è innamorato del cinema, poi avremo un altro bel film che racconta la storia tragica e commovente di Whitney Houston, I Want to Dance, e poi dal primo gennaio arrivano altre due commedie, una di Massimiliano Bruno, nostro concittadino, con Edovardo Leo, e tre di troppo, che è la nuova commedia di Fabio De Luigi, quindi diciamo che c'è per tutti i gusti, sono commedi, cartone animato, film impegnato, l'unica, l'unica cosa che adesso ci manca è l'amore e il ritorno dei nostri spettatori al cinema, però penso che Natale e Capodanno possa essere l'occasione per rivederli da noi. Tu c'è una figlia, non ha figli maschi, Pino, però c'è la figlia che Isabetta che salutiamo, Isabetta praticamente non vuole sentire parlare di cinema, no? Al momento si è dedicata al suo impegno di insegnante, però speriamo che... ha scelto un'altra strada, no? Al momento, però spero sempre di convincerla. Dice al cinema, tu se lo hai detto, faccio l'ultimo sogno che lei possa essere la terza generazione al cinema e la prima presidente di Calcio del Cosenza, presidente di questa donna. Questa è una bella cosa, signora Anna, la moglie, l'ha detto lui, non l'ho detto io, quindi sono fatti i suoi e ve la vedete voi a casa. Comunque, con questo auguri, grazie a Pino Citrigno, che è presidente Confindustria Calabria, naturalmente, di Cinema e Spettacolo. Se vuoi fare gli auguri agli amici, tutti al cinema, quindi, vabbè, Cinema Italia e naturalmente San Nicola e Citrigno, prego. No, l'augurio è di un Natale, un Santo Stefano, un Capodanno sereno, tranquillo, e soprattutto che l'anno nuovo ci porti, ci porti un po' di pace, che manca, non solo da noi, ma soprattutto in Europa, che tutti questi problemi siano superati, e l'augurio è che, insomma, governo, opposizione, si mettano d'accordo e cercano di risollevare l'economia italiana, perché abbiamo bisogno di ritornare a vivere tranquillo. E noi ce l'auguriamo con l'augurio di Pino Citrigno, Giuseppe Citrigno, detto Pino, tipo i politici, ma detto Pino, abbiamo salutato anche Pino Gentile, va bene, un abbraccio da parte mia a tutti voi, ci ritroviamo domani sera, sempre con 30 minuti, da Fabio Ripolli è tutto, grazie Pino Citrigno, alla prossima, grazie e bocca al lupo, la linea al nostro Giuseppe Costanzo a seguire il TG10, a domani, ciao! Grazie a tutti!